Quindi lo teme questo rischio di pareggiare? Guardate, gli italiani hanno, credo, abbastanza attenzione alla situazione per sapere che c'è bisogno a questo punto di una saldezza di governo, di una maggioranza solida. E quindi noi chiederemo agli italiani di darcela a questo punto. E lo chiederemo in un modo non settario. Se gli italiani ci daranno una maggioranza solida alla Camera e al Senato, noi la gestiremo con grande apertura mentale e politica. Questo lo ribadisco, lo dico e lo manterrò. E quindi io non ho preoccupazioni su questo punto.